Sono aperte le iscrizioni per il servizio di ristorazione dell'anno scolastico 2024-2025, la richiesta di iscrizione deve essere presentata attraverso il portale ecivis entro il prossimo 11 agosto 2024. Per i bambini che verranno iscritti al doposcuola comunale, scadenza 14 luglio 2024, non dovrà essere presentata domanda di ristorazione, in quanto risulteranno già iscritti anche al servizio mensa. Sarà introdotta un'applicazione dedicata alla prenotazione e registrazione dei pasti e la cancellazione delle prenotazioni in caso di assenze, ma anche a eventuali indicazioni di diete leggere. Da quest'anno tutti i pagamenti saranno posticipati. Sul portale udine.icvis.it, alla voce, saldo contabile, sarà possibile verificare il proprio stato. Il pagamento del servizio di ristorazione scolastica deve essere effettuato dalle famiglie esclusivamente tramite il portale Pago.pia. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.udine.it.